Ma è normale che il consuntivo venga approvato da una maggioranza solida e è altrettanto normale che le opposioni facciano la propria parte. Oggi Chieti raggiunge un obiettivo che è quello di riconquistare una maggioranza numerica, non l'abbiamo mai persa sotto il profilo del consenso, abbiamo dovuto sottostare a qualche litania della politica, ma il senso di responsabilità, la voglia di costruire, la voglia di fare soprattutto il bene della città hanno prevalso su tutto. Sindaco Lenaula ha parlato di ricatto, il rimpasso delle deleghe c'è stato, l'amministrazione è salva, ha vinto Forza Italia? Io non ho parlato di ricatto, non ha vinto nessuno, abbiamo perso tre mesi per dare in qualche modo soddisfazione a chi voleva per forza aprire una crisi politica, che politica non era, sull'amministrazione. Vi è stata una presa di posizione forte contro un assessore, ingiustificata e ingiustificabile, mai avrei cacciato quell'assessore e questa è la vittoria della politica, abbiamo fatto uno scambio di deleghe che è qualcosa che in politica può esserci sempre. Credo che però la cosa più importante è che oggi noi abbiamo dimostrato che questa amministrazione comunale, questo sindaco, sono stati in grado in pochi anni, negli ultimi tre anni, di mettere in piedi un bilancio che non ha più il parere contrario del Collegio Revisore dei Conti, di mettere in piedi un bilancio che ha, parlo del preventivo, grandi possibilità di sviluppo per la città e di un consuntivo che dice che quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno è stato fatto bene. È una vittoria sua o del gruppo? È una vittoria di chi ha buon senso, di chi non vuole battere il petto per far vedere che è più grande, è la vittoria di chi ha a cuore questa città. Io credo che oggi, più che mai, si possa dire che in questa città esiste un gruppo coeso, che è quello che in questi mesi ha sostenuto a prescindere l'amministrazione comunale. Si è creata una maggioranza, non nuova, ma diversa. C'è una maggioranza che ha bisogno di entrare nelle cattedrali delle litanie della politica e c'è una maggioranza che guarda soltanto ai cittadini e alle cose buone per la città. Insieme possono fare buone cose. Signor, lei in Consiglio ha parlato di una nuova maggioranza che però avrà una cicatrice. Io ho detto che quello che è successo umanamente non può essere cancellato. Ho detto che gli scontri ci possono essere sempre, ma se ci fosse stato uno scontro politico non avrebbe lasciato alcun segno. Ma prendersela quasi personalmente con un assessore lascia il segno e lascia l'amarezza di chi non ha avuto l'accortezza del rispetto nei confronti delle persone.